Si esibisce Roberta Nasti, raccomandata da Maurizio Vandelli, chiaramente l'edibizione è singola e Vandelli assiste come padrino e voglioso di dare contributo. Prego, allora, quello che le donne non dicono, Roberta Nasti, numero uno. Lasciamo in compagnia, certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola e sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare. A stare con noi siamo così. Qui è difficile spiegare certe giornate a mare, lascia stare, tanto ci potrai trovare. E qui, nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose e ti diremo ancora un altro sì. Grazie. Brava, Roberta Nasti numero uno, raccomandata da Maurizio Vandelli. Grazie. Grazie. Grazie.